Decimo capitolo Diana Vi è mai capitato di svegliarvi dopo una notte incredibile, la notte in cui uno dei vostri più grandi e reconditi desideri si è avverato per poi provare la terribile sensazione che sia stato solo un bellissimo sogno. Una volta, quando ero piccola, ho sognato di essere una strega. Una strega vera, con la bacchetta e tutto il resto. Potevo fare incantesimi, aprire le porte con un alohomora, cavalcare la mia bellissima scopa volante, insomma tutto quello che un qualsiasi fan di Harry Potter sogna per tutta la vita e anche oltre. Poi mi sono svegliata e nel giro di tre minuti mi sono resa conto che non era reale. Beh, voglio risparmiarvi i dettagli, ma vi dico che non credo che il mio cuscino abbia mai visto tante lacrime come quella volta. Sono le dieci del mattino e il letto è vuoto. Non c'è traccia di Arianna. Non riesco a sentire nemmeno il suo odore. Di solito, quando l'abbraccio, mi resta appiccicato addosso per tutto il giorno. Invece, niente. I vestiti che le ho tolto questa notte non ci sono più. Mi guardo intorno. La convinzione che sia stato tutto un sogno si fa sempre più strada nei meandri del mio cervello assonnato e non ancora sull'attenti. L'altro letto è intatto. Ecco, lo sapevo, l'altro letto. Aspetta, l'altro letto è intatto. Quindi Arianna non può averci dormito. Quindi vuol dire che è tutto vero? È successo davvero? O forse non è tornata a casa ieri sera? Oddio, dove è finita allora? Con uno scatto prendo il cellulare. È spento. Si deve essere scaricato. Il mio sguardo saetta da una parte all'altra della stanza alla ricerca di un caricatore. Con un balzo arriva la scrivania. Attacco il cellulare e premo il pulsante di accensione. Dai, sbrigati, accenditi. Sento il cuore che mi batte fortissimo nel petto. Non so quale delle due opzioni sia la peggiore. Che lei sia fuggita via dopo la nostra notte incredibile o che non sia mai tornata a casa. Finalmente il cellulare si accende. Una notifica di WhatsApp compare sullo schermo. Messaggio di Ari. Non ho mai aperto una notifica così velocemente. Ehi, sono scappata in uni. Avevo lezione presto. A più tardi. Se prima il mio cuore batteva all'impazzata, rischiando di schizzare via dal corpo, ora sono sicura che si sia bloccato del tutto. Forse è riuscito a scappare. Quindi è tutto vero. Lei, stanotte. Le sue labbra, le sue mani. È successo. Il ricordo dei suoi occhi appannati dal desiderio ora è nitido. Riesco a visualizzarlo come se stesse accadendo di nuovo. Il suo sorriso mentre depositavo dei baci leggerissimi sulle sue guance. Poi il collo. Ok, Diana, ora basta. Hai bisogno di una bella doccia fredda. E di raccontare tutta questa storia assurda a qualcuno. Mentre mi dirigo verso il bagno, mille pensieri affollano il mio già confuso e decisamente annebbiato cervello. Ma una in particolare continua a prevalere sugli altri, lampeggiando davanti ai miei occhi come un insegna al neon luminosa e kitsch. Ce l'hai fatta davvero. Lo sapevo. Sapevo che eri lesbica. L'ho sempre saputo. Cazzo, Chiara, non urlare! E cosa significa che l'hai sempre saputo? Perché ogni volta che mi succede qualcosa sento l'irrefrenabile impulso di parlarne con Chiara. E, soprattutto, perché me ne pento ogni maledetta volta eppure non riesco proprio a smettere. Però devo ammettere che la sua espressione soddisfatta non apprezzo. Noi lo chiamiamo Radar. Tu puoi chiamarlo sesto senso se vuoi, ma Radar è più figo. Dice, masticando il suo panino al prosciutto e mozzarella. Ma di che parli? Io non ho detto di essere lesbica. Rispondo senza riuscire a guardarla. Strappo dei fili d'erba dal piccolo prato in cui ci siamo sedute. Greta Thunberg avrebbe da ridire. Non sei ancora riuscita ad affrancarti dalla tua fase di rifiuto? Cavolo, sei una lesbica difficile. Alzo gli occhi al cielo, senza però voltarmi verso di lei. Tu, quando l'hai capito, scusa, che mi piacevano anche le ragazze? Avevo quindici anni. Mi sono presa una cotta per una mia amica e lei ricambiava. Un giorno eravamo sole a casa e… Va bene, va bene, non voglio tutti i dettagli, ho capito. Chiara ridacchia, continuando a mangiare il suo panino. Come ha fatto a renderlo così semplice? Aveva quindici anni e già conosceva la sua sessualità. Io a quindici anni non ero nemmeno sicura del liceo che avevo scelto. Poi, due anni dopo, mi sono messa con Luca. È chiaro che non sono lesbica. Forse sono bisessuale, come Chiara. O forse solo una cottarella. Forse curiosità. Forse… E fra te e Arianna, invece? Solo baci? Ovvio che sì, era ubriaca. Altrimenti? La domanda mi colpisce allo stomaco come un pallone da calcio in una partita di maschi incazzati. Come? Fingo di non capire. Di solito questa tattica funziona, ma evidentemente non con Chiara. Ma che voglio prendere in giro non funziona mai. Se fosse stata sobria, avreste fatto sesso. Chiara? Esclamo sconvolta, girandomi verso di lei per la prima volta durante tutta la conversazione. Che c'è? La parola sesso? Sesso, 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 cazzo di Ana, hai diciannove anni, non otto. La smetti di comportarti come se tutto questo fosse sbagliato. Stai inizi a farmi incazzare. Oh merda, qualcosa non va. Non mi comporto come se… Inizio, cercando di calmare le acque, ma credo di aver involontariamente acceso una miccia. E invece ti comporti proprio come se… Hai mai pensato che potesse essere offensivo nei miei confronti? Consideri tanto sbagliato l'essere lesbiche? Anzi, riformulo, ti sembra tanto assurdo poter non essere etero? Cazzo di Ana, se ti discrimini tu a diciannove anni, come pensi che possano non farlo gli altri. Sputa le parole su di me con una rabbia che non le avevo mai visto indossare. Non capisco perché sia così alterata. Poi, però, un'illuminazione. Non capisco perché sia così alterata. Io le parlo sempre di me, dei miei problemi, dei miei dubbi. Ma cosa so davvero di lei e del suo passato? Mi dispiace. Non volevo offenderti. Chiara non mi sta più considerando. Si è accesa una sigaretta e ora fissa dritto di fronte a sé. Non penso che essere omosessuali sia sbagliato. Solo non ci avevo mai pensato. E non avevo mai pensato che io potessi esserlo. E per quanto sia una stronzata, noi costruiamo le nostre vite, il nostro modo di essere, a volte anche il nostro futuro, con degli stupidi paletti. Ci aiutano ad avere una specie di orizzonte e quando uno di questi paletti crolla, anche noi crolliamo un po' con loro. Anche se non mi guarda, so che mi sta ascoltando. Ma la verità è che sto parlando molto di più con me stessa che con lei. Ma… ma io non voglio più crollare. Non per colpa dei miei paletti marci, vecchi e superati. Voglio costruire chi sono solo su me stessa. Scusa se ti ho offeso. Non credo che tu sia sbagliata. E non credo di esserlo nemmeno io. I suoi occhi saettano verso di me, la sigaretta stretta tra le labbra. Mi piacciono le ragazze. Sussurro. So che mi ha sentito. E anch'io l'ho sentito. E non posso credere di averlo detto. È la sensazione più bella, nuova, liberatoria che abbia mai provato. Non ho più paura dei miei sentimenti. Ora. Ho smesso di mentirmi. Non lo farò più. Chiara resta a fissarmi per un istante. La bocca leggermente aperta. Poi scuota la testa. Mentre un ghigno si fa spazio sul suo volto. Si butta all'indietro, sdraiandosi sull'erba e continuando a fumare la sua sigaretta. Ce ne hai messo di tempo, eh? Quando succede qualcosa di bello nella tua vita, la prima fase è in assoluto la migliore. Hai raggiunto quello che da mesi, forse anni, era il tuo più grande desiderio. L'hai accarezzato, l'hai baciato, l'hai toccato. Metaforicamente intendo, ma in alcuni casi anche letteralmente. Felicità. Soddisfazione. Centinaia di sentimenti positivi si mischiano nel tuo stomaco formando un vortice che il famoso tornado del mago di Oz può accompagnare solo. Poi arriva la seconda fase, che è molto più complicata. E se non fosse per sempre? E se questa felicità svanisse? E se perdessi tutto ciò che ho faticato così tanto a conquistare? Non ti senti all'altezza? Solo uno stupido, maledetto, incredibile colpo di fortuna. Una botta di culo, insomma. Nulla di più. E la seconda fase, a volte, porta alla timibilissima e quanto mai evitata terza fase. La rottura. Tutte le paure che ti avevano colto di sorpresa nella fase precedente diventano, all'improvviso, concrete. Il tuo sogno svanisce. Il vortice di felicità che avevi nello stomaco risucchia qualsiasi altra emozione per poi sparire nel nulla, lasciandoti addosso un senso di vuoto e di apatia che logora pian piano qualsiasi altro sogno tu stessi coltivando. O, ancora peggio, logora te. In questo momento, mentre sono seduta sul letto ad aspettare che Arianna risponda ai miei messaggi, sono nella seconda fase, ma troppo, davvero troppo vicina a toccare la terza. È tutta la mattina che aspetto che mi scriva, ma non ho avuto più notizie dopo stamattina. A più tardi, recitava quello stupido messaggio. Ma a più tardi come? A più tardi come amiche? A più tardi come tromba amiche? No, che brutto. E poi non abbiamo nemmeno fatto sesso. A più tardi come cosa? Mentre l'enco mentalmente tutta una serie di termini che potrebbero descrivere la nostra situazione attuale, credo di essere arrivata a 33 e nessuno di questi mi sembra adatto, la porta d'ingresso si apre. Ma è Luca o... Ciao? La voce di Arianna mi colpisce direttamente al basso ventre, che si contorce nella speranza di poterla salutare. Devo calmarmi. Mi sa che mi serve un'altra doccia fredda. Arianna entra in camera nostra togliendosi il cappotto, senza quasi degnarmi di uno sguardo. Oddio, fa un freddo assurdo. Tu sei rimasta qui oggi? Chiede, mentre mi dà le spalle per appendere il cappotto e disfare la borsa. Io resto imbambolata a fissarla. Il mio cervello non sembra aver registrato la domanda che mi ha appena rivolto. Oggi la lezione era una palla incredibile, me ne sono andata prima. Continuo a parlare, ignorando il mio silenzio. Diana, cazzo, riprenditi. Ci sei a cena? Pensavo di andare a fare la spesa, aggiunge, per poi voltarsi finalmente a guardarmi. Nel giro di una frazione di secondo cerco di liberarmi dalla mia espressione ebete, chiudendo la bocca e squatando la testa. Non ci sei? in calza, alzando un sopracciglio. Sì, sì, ci sono. Rispondo con un po' troppa fuga. Scusa, ero sovrappensiero. Lei resta immobile per un attimo, mordendosi il labbro. Oddio. Poi annuisce e continua a sistemare le sue cose. Non hai risposto se è stata qui oggi? No, sono andata in uni stamattina, poi dopo lezione ho... mi interrompo, mordendomi la lingua. Non posso dirle di essere stata con Chiara. Mi farebbe una scenata assurda e non è il caso. Poi una lampadina minuscola mi si accende nella mente, illuminando con luce fioca le ragnatele che avvolgono le migliaia di archivi su libri e serie tv. Sì, è così che immagino il mio cervello. Dopo la lezione ho preso un panino con Chiara. Siamo state al parco. Finisco la mia frase prendendo il cellulare e fingendo di messaggiare con qualcuno. So di essere stata diabolica, ma ho davvero bisogno di una sua reazione in questo momento. La sua indifferenza mi sta facendo lentamente precipitare nella terza fase da cui è impossibile risalire. Ovviamente la sua reazione è quasi immediata. Capito? risponde, ostentando indifferenza. La riesce davvero male. Io continuo a fingere di messaggiare, sperando che la cosa la faccia innervosire ancora di più. Con chi messaggi? Chiede avvicinandosi al mio letto. Bingo. Nessuno? Dico, mettendo via il cellulare prima che possa sbirciare. Dai, fammi vedere. Ride, cercando di togliermi il telefono dalle mani, ma la sua è una risata forzata. È infastidita. Sta funzionando. Non è nessuno, ribadisco. Sono poco convincente, eppure non è davvero nessuno. Incredibile come la suggestione possa manipolare una giovane mente. Arianna si sporge ancora di più verso di me, cercando di strapparmi il cellulare. È quasi del tutto su di me e il mio corpo reagisce di conseguenza. Il battito accelera. Il respiro si fa più veloce. E in una frazione di secondo, la situazione precipita. Letteralmente. Arianna perde l'equilibrio, franando su di me, a un centimetro dal mio viso. Siamo dove avrei voluto che fossimo, eppure non ho idea di cosa fare. Guardo i suoi occhi castani e mi rendo conto che lei non sta guardando me. O almeno, non sta guardando i miei occhi. Ma la mia bocca. E non resisto più. Annullo la distanza, tornando ad assaggiare le sue labbra morbide, come ieri sera. Non sa più di alcol. Ora sa solo di Arianna. È più buona. Mi piace. Lei ricambia il bacio, poggiando una mano sulla mia guancia. La sua lingua chiede il permesso di entrare, e io glielo concedo. In questo momento le concederei qualsiasi cosa. Il bacio dura minuti, ore, forse giorni, non lo so, ma vorrei che non finisse mai. Le sue mani tra i capelli, mentre preme il suo viso sul mio. Le accarezzo la schiena. Sopra la maglietta. Non ho il coraggio di andare oltre, ma vorrei. Oh, come vorrei. Sembra che lei stia ascoltando i miei pensieri. La sua mano fredda scende con lentezza lungo il mio collo, accarezzandomi le spalle, poi le braccia fino ad arrivare ai fianchi. D'un tratto la sento infilarsi sotto la mia maglia. Sgrano gli occhi senza interrompere il bacio. Non è solo una reazione al freddo inaspettato. Dove vuoi arrivare, Ari? Portami con te. E di nuovo lei obbedisce. La sua mano libera afferra la mia e la guida lungo tutta la sua schiena fino al suo sedere. Con eleganza e infinita dolcezza la lascia lì, accarezzandola. È un tacito invito ad andare oltre. Un semplice bacio. Semplice per modo di dire. Con un'audacia che non ho mai sperimentato prima, accolgo il suo invito e stringo il suo sedere con delicatezza, spingendo il suo corpo un po' più verso il mio. Un leggerissimo gemito d'assenso sfugge dalle sue labbra, ancora premute contro le mie, facendomi tremare. Non riesco a credere che stia davvero succedendo. Le sue mani risalgono lungo i fianchi, sfiorando i lati dei miei seni sopra la stoffa bianca della biancheria intima. Mi manca il respiro, ma ogni suo bacio è come una boccata d'aria dopo ore passate nelle profondità dell'oceano. Il mio oceano. Le nostre mani, i nostri corpi, le nostre labbra sono come bombole d'ossigeno che mi aiutano a risalire dall'abisso nel quale mi ero rinchiusa. Il mio corpo risponde, e io lo accetto. Per la prima volta, per davvero, ed era esattamente ciò di cui avevo bisogno. Senza più indugiare, afferro i bordi della sua maglietta e gliela sfilo. Un bellissimo reggiseno di pizzo nero avvolge le sue curve. Non è la prima volta che la vedo in biancheria intima, è chiaro, ma questa volta è diverso. Non devo più lanciare occhiate di nascosto, sperando che non se ne accorga. Non sono più costretta a sentirmi in colpa, a rimproverarmi, dopo aver sbirciato il suo seno seminudo. Non devo più convincermi che in realtà non mi piaccia, che è solo curiosità. Lei mi guarda, stupita dal mio gesto audace. Io continuo a guardare quelle forme che avevo sperato di poter toccare per così tanto tempo. E così faccio. Il mio dito comincia a percorrere il bordo di pizzo, accarezzando la pelle morbida, profumata. È tutto così esatto. Lei chiude gli occhi, godendosi il mio tocco inesperto. Vorrei poter… No. Basta vorrei, Diana. Per una cazzo di volta nella tua vita, prenditi quello che vuoi e smetti di perdere ciò che avresti potuto avere. Senza pensarci due volte, avvicino le labbra al suo petto. Arianna trattiene il respiro, ma non si allontana. Mi sta dando il permesso. Con lentezza comincio a lasciare una serie di baci umidi e leggeri sulla parte superiore del suo seno. Il suo odore penetra dentro di me. È afrodisiaco. Le sue mani mi afferrano i capelli, getta la testa all'indietro gemendo piano. Ma non è ancora questo ciò che voglio. Le mie mani, che finora avevano accarezzato i suoi fianchi, risalgono lungo la schiena, sfiorando dolcemente la sua spina dorsale con la punta delle dita. Questo gesto la fa inarcare ancora di più, procurandole degli evidenti brividi sulla pelle. Però, Diana, ci sai fare, eh? Finalmente raggiungo il gancio del suo reggiseno. Vorrei sembrare sicura di me. È la mia prima volta con una donna, anzi. È la mia prima volta e basta. E per quanto io stia cercando di dimenticarlo in questo momento così perfetto, le mie mani tremano. Afferro il gancio e cerco di aprirlo. Ma l'agitazione prende possesso del mio corpo. Continuo a tirare, lottare, ma proprio non vuole saperne. Cazzo. Sono un'idiota. Ora rovino tutto. Lo so che rovino tutto. Poi sento le mani di Arianna posarsi sulle mie. Alzo lo sguardo e lei mi sta accarezzando. Oddio, com'è bella. Dopo un paio di tentativi riesce a sganciare il reggiseno. Le sue mani restano lì, sulle mie. M'hanno smesso di guardarla. E non mi ero resa conto di avere un nodo alla gola finché non si è sciolto. Sto quasi tremando, ma lei mi sorride. So che non è la sua prima volta. Fa male. Non devo pensarci ora. Torna a baciarmi, mentre lascia che le sue mani scorrano via dalla sua schiena insieme alle mie. Mi accompagna lungo le spalle, facendo cadere le spalline del reggiseno, una dopo l'altra. Il pezzo di stoffa che abbandona il suo corpo cade tra di noi, inerme. Lei lo butta via. Sto cercando di guardarla negli occhi, ma la tentazione di fissare il suo seno nudo è troppa. E che cazzo se non lo faccio ora quando? Abbasso gli occhi e per un attimo non mi viene un infarto alla vista dei suoi seni meravigliosi, perfetti. Allungo la mano, sfiorando la curva morbida, mentre con il pollice sfrego piano il capezzolo. Lei geme e si inarca, chiudendo le palpebre. Oh, ok. Chiaro. Ora tocca a te, sussurra, afferrando l'orlo della mia maglia e tirandolo verso l'alto. Oddio, che imbarazzo. Ma lei mi ha già vista in bianchere intima. Calmati, Diana. Non è niente di nuovo per lei. Non andare nel panico. Mentre cerco di respirare, nella speranza di calmare le cellule del mio corpo che sono definitivamente impazzite, Arianna riesce a sganciare il mio reggiseno e a lanciarlo via nello stesso tempo che io ho impiegato solo a pensare di doverlo fare. Ok, questo sì che è nuovo per lei. Non mi ha mai visto senza bianchere intima, in quasi nove anni che ci conosciamo. È ora lì che fisse il mio seno, decisamente non bello quanto il suo, con un'espressione che fatico davvero a decifrare. È apprezzamento. Confusione. Sono troppo piccole. Che hai da guardare? Beh, complimenti, devo dire. Commenta dopo un po', passando il suo dito sul mio petto e lanciandomi uno sguardo lascivo. Ok. Era apprezzamento. Senza darmi la possibilità di replicare, si piega su di me, cominciando un lento e doloroso attacco di pace al mio collo che arriva dritto dritto al mio basso ventre. Sento la sua bocca succhiarmi la pelle. Sembra quasi che voglia strapparla via. E io desidero che lo faccia. Ti prego, strappa via. Strappa via il dolore che scorre ancora dentro di me. Strappa via anni di risentimento verso me stessa. Strappa via ogni bugia che mi sono raccontata, nella speranza che un giorno tutto sarebbe andato per il verso giusto. Non avevo proprio capito che ero io il mio verso giusto. La sua mano si poggia sul mio ventre, per poi scendere verso la cerniera dei jeans. Con un movimento veloce delle sue dita, la patta è aperta e mette in mostra le mie mutandine bianche antisesso. Sai che ti dico. Adesso strappa via pure quelle.